Buongiorno a tutti, sono rapidissimo perché bisogna iniziare a passare alla fase operativa che è la cosa più importante. La giornata importante è una giornata dedicata all'alimentazione, all'alimentazione sana, dovete imparare a mangiare bene, dovete imparare a riconoscere i cibi e a fare delle scelte perché l'alimentazione è la base anche della vostra salute, se mangiate bene avrete una vita più lunga e più sana, quindi bisogna non scherzare su questo argomento ma essere molto, molto attenti e dovete iniziare da piccoli a conoscere questi problemi e a fare delle scelte, delle distinzioni. Grazie di essere intervenuti, scusatemi se mi avevo fatto aspettare e via le danze! Grazie a tutti! 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 Un applauso alle nostre autorità e ringraziamo loro per il tempo di sottopositiva.